Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati qui con la carriera allenatore con l'Inter. Oggi è un episodio che dire importante a quasi sminuirlo, perché l'episodio di oggi è qualcosa di molto più che importante. Intanto suonano al campanello, mannaia. Questo episodio è importantissimo, perché oltre ad andarsi a giocare il campionato, che come potete vedere abbiamo 11 punti di differenza dalla Lazio, oggi andiamo a giocarci la semifinale di andata e di ritorno contro lo Schalke 04. Quindi oggi Roma, Schalke, Frosinone e di nuovo Schalke. Quindi l'episodio di oggi o ci manda alla finale di Champions League, quindi ci manda magari in paradiso o nel limbo aspettando di andare in paradiso vincendo la Champions League, oppure ci manda direttamente all'inferno. Non credo di essere stato abbastanza chiaro, ma sono anche un attimo agitato, sinceramente, perché è una situazione abbastanza importante per il proseguimento e per arrivare alla fine di questa stagione in maniera incredibile ed indimenticabile, cosa che i tifosi interisti si aspettano comunque dalla propria squadra. Io spero vivamente, ragazzi, di non deludervi. Saluto però prima un po' di persone che mi hanno scritto sui social network, link in descrizione, Instagram e Facebook. Quindi saluto Ragazzi, oggi non ne saluto tanti perché voglio andare a giocare. Voglio andare a giocare. Quindi, oggi partita con la Roma. Cercate di capirmi, veniamo dall'infortunio di Depay di tre mesi e ci aspetta la semifinale di Champions League. Quindi oggi turnover davvero massiccio. Quindi non farò giocare Lewandowski e neanche Griezmann. Ragazzi, turnover troppo massiccio. Cioè, abbiamo 11 punti dalla seconda in classifica. Posso permettermi di fare sinceramente questo turnover. E quindi, niente ragazzi, andiamo a giocare questa partita. Mi fa strano, una partita contro la Roma non sarei mai andato a giocarla con questa formazione. Ma ho paura, perché avete visto che Depay nello scorso episodio si è infortunato così, dal nulla. Un contrasto si è spaccato la caviglia per tre mesi. E quindi capite che non posso rischiare di perdere nessuno dei titolari. Allo stadio olimpico, tutto esaurito, perché comunque è una partita che vale, una partita che conta, una partita importante. Molto più importante probabilmente per la Roma, perché comunque si avvicinerebbe alla Lazio in caso di vittoria. Noi questi 11 punti possiamo gestirceli fino alla fine del campionato, sinceramente. Direi che si può incominciare, forza Inter, è sempre sul pezzo. Attenzione a Mares, servito in maniera ottimale da lungo. La parola ritorna a lungo, che tira! Ma il portiere, chi è? Diego Alves, se non sbaglio. Grande parata. Buona la chiusura dello Svizzero. De Ruffeo la mette in mezzo su Andreoli. Chi è Diego Alves, è veramente forte. Il primo tempo è già svanito. Poche occasioni da una parte e dall'altra. Tra noi, come ho detto, stiamo facendo una partita di contenimento, più che altro. Fincci con il primo tempo. 0-0. Attenzione qui la Roma, con De Rossi. Largo per... A mano di Turbe, il tiro di Turbe! La palla esce. Nardi non la tocca. Attenzione! Cosa fa Diego Alves? 1-0 Inter! No, 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 raga! Non ci credo. Cioè Diego Alves, l'ha tirata addosso a Paco Alcacer, solo che Longo era in fuorigioco. Clamoroso. Clamoroso, veramente. E finisce qua. 0-0. Punteggio che a noi ci va molto bene, devo dire. Allora, ma un po' meno. Sono sincero, il genere di partita che volevo e che mi aspettavo era esattamente questo. Con il migliore in campo, se non sbaglio, Murillo. Così a caso. Sì, Murillo. E dopo aver motivato a dovere, spero a dovere, la squadra, andiamo a giocarci questa semifinale di andata di Champions League in casa dello Schalke. Quindi vediamo di segnare perché i gol fuori casa, come sapete, sono molto importanti. Formazione di titolare, per fortuna, è tutta intera, è tutta intatta. Bella, 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 bella. Ok. È sereno, leggenda, sereno. Sono teso, sono teso, sono teso, sono teso. Primi 90 minuti di questo doppio confronto contro lo Schalke 04. È inutile dire che non dobbiamo sottovalutare questa squadra, perché se è arrivata fino qui ci sarà un motivo. Ha battuto prima il Siviglia, squadra ostica, ma soprattutto ha battuto il Manchester City. Sarà una squadra ostica, secondo me molto rapida e molto anche tosta a centrocampo, perché se non sbaglio c'è Jace, che comunque è un buon centrocampista difensivo, che lavora molto bene. Atmosfera da brividi, da brividi veramente. Questa è la formazione dello Schalke. Attenzione perché c'è Medel. Farman, Aogo, Vedes, Nastasic, Kaisara, se non sbaglio, Jace, Medel, Clemens, Sam, molto veloce, Untala, Untelar e Di Santo. Non male, non male. Sempre sul pezzo e forza Inter. Juxo fa partire Felipe Anderson, abbiamo fatto un ottimo recupero palla e possiamo ripartire Felipe Anderson, chiuso da Nastasic. Nastasic è fortissimo in difesa. Andiamo col pressing alto, ragazzi, andiamo col pressing alto. Che sbagliano, forza che sbagliano. C'è un Oglu. Palla per Lewandowski, si gira leva, il tiro di Lewandowski! Farman, che parata ha fatto. Che parata, l'avevo vista dentro. Tiro di leva. Eh, qui, decisivo, decisivo Farman. Ozakup dalla bandiera. Colpo di testa, non c'è nessuno. Tutti fermi, tutti fermi, Farman! In qualche modo lo Schalke è libero e riparte anche. Oppure no, grande Varane, grande Varane. Sì, Ozakup, che fa partire Felipe Anderson. Vai Felipe, vai Felipe Anderson, in seguito da Sam, che è velocissimo! Steccato, mamma, che brutto intervento qua di Sam. Ammonito, ammonito l'esterno testo dello Schalke. Lewandowski di fisico, leva, leva, leva! Uvedes, con la faccia! Attenzione a Di Santo. Tutto il tiro di Di Santo. Palla fuori, la colpisce malissimo. C'era Ozakup che lo stava ostacolando. Felipe Anderson, fa partire Juxo. In sovrapposizione, può andare Juxo. È più veloce di Nastasic. La mette in mezzo Juxo, dove c'è Lewandowski! Non dirmi che la parata Farman. Non posso crederci. Non posso crederci, perché ha dato angolo. Felipe Anderson, bella palla per Celanoglu! Sì! A Cancelanoglu! 1-0! 1-0 Inter! Sempre lui! Sempre a Cancelanoglu! Gran palla di Felipe Anderson qui. Qui vedete, Nastasic la perde. No, Jace la perde. Grande anticipo di Griezmann. Qui freddissimo. Felipe Anderson a darla di prima a Celanoglu. E poi quel Celanoglu anticipa a far male in uscita. Col destro, la piazza. 1-0 Inter. Gran gol di Celanoglu. E lo stadio dello Schalke si è ammutolito. Finisce quel primo tempo. 0-1. Gol di Akancelanoglu in chiusura di primo tempo. Siamo stanchissimi, perché stiamo correndo tanto. La mette in mezzo a Ogo. Attenzione, Huntelar. Non può colpire così Huntelar, però. Attenzione, il tiro da fuori di Sam. Qui Nardi poteva far sicuramente meglio, ma l'importante è che non entri questo pallone. Griezmann. Sargo Lewandowski la mette in mezzo. Dovrebbe esserci lui in mezzo. La palla resta lì. Attenzione. Farman! Tiene le man spalo! È uscito malissimo il portiere dello Schalke. Si leva. Si leva. Fai partire Griezmann. Fai partire Antoine. Fai partire Antoine. Che se ne va. Sì, Antoine. Per Kondogbia. C'è di là Cancelanoglu. Non ci credo. Cosa ha fatto Huger? Cosa ha fatto Huger? Cosa ha fatto Huger? Che intervento? Quale intervento ha fatto Huger? Musacchio recupera un gran pallone. La mette in mezzo. Dove c'è Lewandowski? Il tiro di Lev. Farman! E poi la palla esce. Musacchio era partito. Era proprio andato... Tielemas. La mette in mezzo. Ancora lì il pallone. No, no, no. Non facciamoli ripartire Nastasic. C'è Felipe Anderson. Il tiro di Mancino. Sì! Felipe Anderson! Con questo Mancino fa di tutto. 2-0 Inter. All'84esimo. E chi lo sa. Partita chiusa sicuramente. Qualificazione non ancora. Ma qui... Qui incredibile. Qui incredibile. Mancino incredibile di Felipe Anderson. Nulla può far, man. Ma questa cosa qui. Questo tiro. Questo gol. Non è la prima volta che lo vediamo fare a Felipe Anderson. Anche nello scorso episodio. Gol identico. Imparabile per Farman. Imparabile per Farman. 2-0 Inter. 2-0 Inter. E questo punteggio è l'apoteosi. E questo punteggio è l'apoteosi. Incredibile. Meritato. 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 Potevamo andare anche sul 3-0. Se quel cavallo di Lewandowski... Non so perché cavallo di Lewandowski... Non si fosse ammagnato con i due goli incredibili. Però... Mamma. Quanta fatica. Però questa fatica... È ripagata. Andiamo a vedere se si sa... Andiamo avanti con il calendario. Andiamo a vedere però se si sa come è andata l'altra semifinale. Il Bayern Monaco batte 1-0 il Wolfsburg. Non è un punteggio clamoroso. In ogni caso il Bayern Monaco è avvantaggiato per il passaggio del turno. E noi siamo avvantaggiati per il passaggio del turno uguale. Perché abbiamo fatto 2-0 fuori casa. È un ottimo punteggio. Ora ci andiamo a giocare questa partita con il Flusione. Ce la giochiamo ragazzi. Perché voglio staccare un attimo... Dalla fatica della Champions. Cercando di far giocare anche qualcuno che magari gioca meno. Per Puskas. Che si gira. Il tiro a giro di Puskas. La palla resta lì. Paco Alcasser. Per Murillo. Il tiro di Murillo da fuori. Martinez. Va la parata. Baldini. Per Paco Alcasser. Che c'ha un buon destro. Ancora Martinez. Baldini dalla bandiera. Florenzi. Per Paco Alcasser. Di sinistro. Ancora Martinez. Sono 5 minuti che siamo qui a tirare praticamente. Con Dogbia. Per Florenzi. Mamma che missile terra aria. Baldini. 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 Libera il destro. Martinez. Con Dogbia. Si gira. Paco Alcasser. Vai col destro. Ancora Martinez. Baldini. Ruba un gran pallone. Può andare il George Puskas. Puskas. Davanti a Martinez. Davanti a Martinez. Incredibile. Ha parato anche questa. Prova il tiro a giro. Baldini. Fuori. Ma stiamo strameritando. Attenzione. Martinez. Deviazione. E poi Murillo. E poi Murillo. Attenzione. Crivello. All'85. Si mangia un gol. Che. Visto il giorno. Neanche il pranzo di Pasqua. Possiamo ripartire con Pacito. Paco. 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 Davanti a Martinez. Niente. Non gli si fa gol a sto Martinez. Finisce qua. 0-0. Al Matusa. Non riusciamo a passare. Ma qua Jefferson Martinez. Non si sa cosa abbia preso prima di questa partita. Perché. Ha parato di tutto. Di tutto. Ma comunque ci sta. No. Scusami di Gennaro. Sto attraversando un buon periodo di form. Ultimamente mi sento bene. Quindi spero. Non mi manderai in panchina nella prossima partita. Semifinale di ritorno con lo Schalke. Non lo so. Dimmi tu. A me queste robe di FIFA mi fanno perdere veramente la testa. Andiamo a giocarci questo ritorno contro lo Schalke. 0-4. Non scontato. L'unica cosa scontata. Per il momento. È la nostra formazione. A titolare. Vedo. Tutta. Tutti i miei quattro giocatori. In attacco. Molto in forma. E questo. Questo è un bene. Ma come ho già detto. Non è una parita scontata. E oggi a San Siro. Si gioca l'ultimo atto. Di questo doppio confronto. Contro lo Schalke a 0-4. Per l'accesso. Alla finale di Champions League. Una finale che. Detto sinceramente. Ci meritiamo. Ci meritiamo per come è andato il nostro percorso. Per quello che abbiamo dimostrato. Già partendo dai gironi. Perché i gironi si erano messi malissimo. Abbiamo tirato fuori. Le palle. E. Siamo arrivati fino a qui. Quindi direi che è una finale che. Che ci meritiamo. Sempre sul pesto. E forza Inter. Oggi li controlliamo. Sperando di ripartire come al solito. Filippo Anderson. Bella palla per Griezmann. Difuso Griezmann. Il tiro di Griezmann. Farman. La tiene lì. Ozzacopo. Ancora per Cialanoglu. Ciala. Non me lo sbaglio. Lo so. Farman. Cialanoglu. Ancora lui. Sempre lui. Magnificamente Cialanoglu. Per citare. Oddio. Per citare. Non mi ricordo neanche chi cazzo era. Marianella. Credo di sì. Non mi interessa. Sempre. Magnificamente. A Can Cialanoglu. Anche nella semifinale di ritorno. Distrugge Farman con il suo destro. E adesso le cose si mettono benissimo. Adesso le cose si mettono benissimo. Ragazzi. Ci siamo. Dai. Ci siamo. Ci siamo. Ci siamo. Andare a puntelare. Sul lato. Varan. Lo chiude. Rimessa laterale per lo Schalke 04. Ma noi ci siamo sempre. Noi ci siamo sempre ancora. Varan. Non fa passare niente. Niente. Non passa niente. Flippe Anderson. Gran lancio. Per Griezmann. Di tacco la tiene. Ancora Antoine. Che poi viene fermato da Colasinac con la mano. Attenzione a Di Santo. C'è un Teller. Nardi. Che parata ha fatto Paul Nardi. Che parata ha fatto Nardi. E qui se siamo ancora in gara è grazie a lui. Quanta fiducia che ha dato a Nardi. Sinceramente ha fatto bene. Non me ne pento. Non me ne pento. Jace. Ancora. Paul Nardi. Finisce qui il primo tempo. 1-0 per noi. Ci sono ancora 45 minuti. Ma adesso per lo Schalke 04 si fa davvero molto dura. Noi stiamo qui. Stiamo qui con la testa. Sempre sul pezzo però. Se noi stiamo in pressing alto. Lo Schalke fa fatica. A uscire. Anche se qui esce davvero molto bene. Ma qui va run. Spettacolo. Spettacolo. Attenzione alla punizione. Guarda lo Schalke. Che va Jace. Nardi. E poi la palla in calcio d'angolo. Se non sbaglio. Ozdekup. Tieni di fisico. Traversa di Ozdekup. Su una grande parata di Farman. Ragazzi Ozdekup ha tenuto. Fisicamente. A traversare. Felipe. Felipe. Anderson. Bella palla per Griezmann. Farman. Quanti gol che ci stiamo a mangiare. Con questi colori. Attenzione a Jokishou. Che recupera un gran pallone. Griezmann. Griezmann. C'è dall'altro lato. Pago al Kasser. Oh vedi. Si fa una gran chiusura. Forse arriva Felipe Anderson. No. Però a ripartenza siamo clamorosamente forti. Jokishou. Per Tiele. Mascia fuori Ozdekup. Attenzione. Ecco la palla. Arriva Ozdekup. Che prova col destro. Ozdekup. 2 a 0. Chiuso. Chiuso. Siamo in finale di Champions League. Siamo in finale di Champions League. Lo Schalke 04 è stato annientato. Sia all'andata che al ritorno. Ha avuto le sue occasioni. Grazie a Nardi non le hanno sfruttate. Diciamolo così. Anche perché Nardi ha fatto un gran miracolo prima. Che poteva riaprire i giochi. Ma qui. Qui addormentati. Hanno lasciato Ozdekup da solo. Sul destro. Il suo piede. Fantastico. 2 a 0. Accangela Noglu. E Ozdekup. Viva la Turchia. Filippe Anderson. Ancora la palla per Tielemans. C'è ancora Ozdekup. Che c'è ancora sul destro. Farman. Curva dell'Inter. Tutta in piedi. Tutta in piedi. A cantare. Mamma mia che emozione. Che emozione. Sì sì. Fai la tua striscetta. Attenzione a Untelar. Bella palla per Chupomoting. 2 a 1. Chupomoting. Qua ce lo siamo perso. Chupomoting. Non lo so. 4 a 1 il parziale. Qua se l'ha perso Florenzi. Bel movimento comunque di Chupomoting. Qui niente da fare per Nardi. 2 a 1. Finisce qua. 2 a 1. Siamo in finale di Champions. Siamo in finale di Champions. Non ci posso credere. Non ci credo. Sì. Sì. Schalke 04 annientato. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Adesso voglio vedere contro chi saremo. Siamo... Non ci credo. Finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Come nel 2010 ragazzi. Si ripete la finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Io voglio che parta l'hashtag triplete. Voglio che parta nuovamente l'hashtag triplete. Perché l'avevamo già fatto partire nello scorso episodio. Ma ancora non sapevamo come potevano andare le semifinali. Ora avanziamo un secondo. Prosto episodio tra la partita di campionato. Non vedrete la finale di Champions League. Champions League voglio fare un video a parte. Quindi il prossimo episodio che probabilmente arriverà infrasettimanalmente. Per dedicare la domenica alla finale di Champions League. Quindi nel prossimo episodio ci dedichiamo al campionato. E poi avremo tempo per la finale di Champions League. Anche perché dopo ci sarà la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Nel prossimo episodio probabilmente vedrò, penserò anche a cosa poter fare con la prossima carriera allenatore. Perché per il momento c'è a Fiorentina il Real Sociedad e il Villareal come incarichi possibili. Però voglio vedere se finire con lì, cioè se ricontinuare con l'Inter, se aspettare un incarico o addirittura iniziare una carriera nuova. In ogni caso ragazzi, prossimo episodio campionato, probabilmente infrasettimanale. Poi ci vediamo con la finale di Champions League e la finale di Coppa Italia. Signori io spero che questo episodio vi sia piaciuto, deve esservi per forza piaciuto. Siamo andati in finale di Champions League. Il sogno continua, hashtag triplete, hashtag sempre sul pezzo. Un mi piace, un consiglio, un commento e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, forza Inter.